Musica Buonasera e ben ritrovati ad un'altra puntata di Vita d'Atleta. Ospite quest'oggi in studio uno dei precursori della Maratona a Livigno. Me lo accennavi a microfoni spenti, non lo sapevo, Migidio Burifa. Buonasera a tutti. Ciao Migidio, grazie ancora per aver accettato il mio invito. Grazie per l'invito. Ce la stavamo ridendo appunto perché mi hai appena detto, vengo a Livigno da vent'anni, sono stato uno dei primi a correre quando la pista ciclabile era ancora sterrata, dei bei ricordi, insomma anche per te Livigno è una seconda casa. Assolutamente sì, ci torno sempre volentieri e da vent'anni appunto che vengo per fare le mie preparazioni in vista dei maratoni importanti e mi ha sempre portato bene. Diciamo che all'inizio c'era un po' di allarmismo visto i percorsi abbastanza difficili, però poi ci siamo accorti che rendeva più di altre quote distese per l'Italia. Quindi Livigno ha la possibilità adesso oltretutto di aver allargato la pista ciclabile, quindi un modo per fare chilometri per i maratoneti, perché questa è una peculiarità importante. E la possibilità avere di una quota che possa rendere per l'atleta quando poi scende per le competizioni. E allora rimaniamo in tema Livigno così riusciamo a capire meglio come mai annualmente tutti questi podisti invadono Livigno per correre sui nostri sentieri, sulla nostra pista ciclabile. Non abbiamo ancora la pista d'atletica, però il terreno si presta alla grande, è così? Assolutamente sì, io ho già da parecchi anni che seguo un po' quella che è la politica di Livigno nel perseguire questa bella pista di atletica che sarebbe un bel punto di riferimento anche per la nazionale, visto che i raduni degli atleti cercano sempre posti in quota dove poter preparare i campionati federali come gli europei, i mondiali o le olimpiadi. Quindi avere una pista a Livigno vuol dire portare un sacco di società sportive anche a Livigno e allargare anche le specialità, quindi non portare solo maratoneti o mezzofondisti, ma poi verrebbero anche gente di altre specialità, quindi è una promozione sia allo sport ma un modo per fare anche turismo. Senza contare comunque anche l'ospitalità, insomma si mangia bene e c'è anche da divertirsi tra virgolette nel post allenamento. Assolutamente, Livigno offre tutto sotto questo aspetto, sia l'aspetto paesaggistico, quindi poter correre in diversi spazi, correre su percorsi abbastanza piatti, dei percorsi abbastanza muscolari, salite e avere una pista sarebbe completare definitivamente quella che è la cerchia delle aspettative di un atleta. Chiaramente la mondanità la sera non manca, quindi lo svagarsi anche dopo essersi concentrati tutta la giornata in campo è sempre piacevole poi passare anche qualche ora di svago tra amici. Migidio, veniamo a te, ti sei ritirato in maniera ufficiale dal mondo delle maratone poco tempo fa? Sì, due anni fa in effetti, ho raggiunto l'obiettivo del quarto titolo italiano a Carpi e ho deciso di appendere delle scarpette a livello agonistico perché tuttora corro, è una passione che ho nel cuore e quindi io più di due o tre giorni senza correre non ci sto, quindi porto con me questa passione, continuo a correre come fanno del resto tutte le persone che hanno un lavoro e cerco di dare comunque sempre il massimo di me stesso. L'hai detto tu, hai smesso in maniera agonistica ma assolutamente il petrolio di gara lo indossi ancora e anzi in maniera frequente ti sei dato anche un po' alle lunghe distanze, l'ultratrail o maratone un po' particolare, una su tutta quest'ultima nel mese di aprile, questa primavera, la Marathon des Sables, insomma non una qualsiasi. Sì, è stata un'avventura che da anni avevo in testa di fare, era più che altro per togliermi uno sfizio personale, avevo visto dei video molto interessanti nella quale mi domandavo se ero in grado di poterla portare a termine, quindi quest'anno ho deciso di farla senza una grossa preparazione, però ci sono andato, è uscito un po' il mio spirito agonista e quindi alla fine è stata molto dura portarla a termine, però ce l'ho fatta con soddisfazione, oltretutto è arrivato anche un buon piazzamento, quindi meglio di così. È stato onore, nello specifico, quindi è veramente dura. Sì, l'ho trovata dura per vari motivi, uno essenzialmente perché il percorso si corre sulla sabbia, quindi è totalmente diversa dall'approccio e dagli appoggi che si hanno sull'asfalto, quindi i problemi che poi porta la sabbia, quindi varie vesciche, la scelta tra mettersi le ghette oppure no, le ghette non hai problemi di sabbia, però il piede si surriscalda, mentre togli le ghette però c'è il problema della sabbia che ti entra nelle scarpe, quindi è stata una scelta quella di non metterle, visto anche cosa facevano quelli più esperti di me, quindi è stata comunque sì la scelta giusta anche se i piedi hanno sofferto. Un'altra è il riposo, perché si riposa veramente poco e male, perché si dorme in queste tende berbere dove di notte la temperatura scende, si dorme nei sacchi a peli per terra, vento, in tenda si è in parecchi e quindi veramente si fa fatica, soprattutto io che ho il sonno leggero, ho fatto fatica nel recuperare, quindi in tre giorni affrontare 100 km con temperature 40-42 gradi di giorno e 10 gradi di sera è stato più che altro quello, l'adattamento a questo tipo di diversità rispetto a quello di cui io ero abituato. Anche perché è una maratona che si aggira sul chilometraggio di? Allora, sono state tre tappe, quindi il primo giorno abbiamo fatto 27 km la mattina e la sera una tappa in notturna di 8 km, il giorno dopo 30 km dove io ho sofferto parecchio e avevo anche un problema di vesciche pensando al giorno dopo che dovevo affrontare una maratona perché l'ultimo giorno si fa 42 km, però la mattina stessa mi sono dato un po' di forza, un po' di carica dettata anche dall'ambiente che ti circonda perché il bello è che leghi anche con tantissima altra gente che vivono la tua stessa esperienza, sei nel deserto, lontano da tutti, da ogni comunicazione, i telefonini non vanno e quindi condividi un po' quello che è, quei giorni, quei momenti, quindi ti fai forza uno con l'altro e la mattina sono partito, però anche gli altri erano stanchi, quindi alla fine è prevalso un po' anche la forza atletica e la forza mentale, quindi è stato bello arrivare e tagliare il traguardo e dire ce l'ho fatta. Arrivavi comunque da una lunga carriera, diciamo lunga lunghissima carriera su tutti quattro titoli di campione italiano di maratona, insomma credo probabilmente tu sia l'unico in Italia a vantare quattro titoli, mi sbaglio? Credo di sì, sulla maratona sì, credo di vantare questo record che infatti ho tenuto duro fino a tarda età proprio per riuscire a vincerne quattro, che non era semplice, però ho sfruttato quelle che sono le mie caratteristiche sulla conoscenza del mio corpo, di saper gestire gli allenamenti in modo di arrivare in forma e determinato il giorno che conta, quindi la programmazione diventa fondamentale per un maratoneta. Di queste quattro, magari poi ci ricordi tu le date, anche le località, qual è quella più significativa per te? Ma sicuramente a Roma, quella di Roma quando arrivai quarto assoluto e primo italiano, è stata una vittoria importante perché avevo fatto anche un crono importante e in quell'occasione mi guadagnai anche la maglia azzurra, quindi racchiudeva un po' tutte e tre le aspettative che cercavo e sono arrivate tutte e tre, quindi ricordo con cuore quella di Roma che era nel 2007, 18 marzo 2006, le date non me le ricordo. Mi ricordo io benissimo, ce l'ho qua scritto. Le date non me le ricordo, però mi ricordo gli anni. L'anno dopo a Treviso, dove corsi a uomo contro uomo fino all'ultimi chilometri, riuscì sia ad agguantare il titolo che la gara in sé, quindi vinsi col titolo italiano, neanche quella sotto un diluvio universale, dal primo metro alla fine, però portata a termine bene. Il terzo è stato molto difficile perché era la mia terza maratona, arrivavo dalla maratona primaverile a Roma dove conquistai il posto per gli europei, poi corsi gli europei, dove arrivai il settimo, quindi era il 2010, e provai a vincere il terzo titolo sapendo di andare a fare la terza maratona dell'anno, quindi con parecchia fatica sulle gambe. Anche lì giocai di esperienza contro un Danilo Goffi molto agguerrito e riuscì comunque a vincere anche questo terzo titolo. Il quarto titolo è stato più che altro dettato dall'esperienza, perché sono partito molto prudente, sapendo quello che potevo fare, e ho raccolto il quarto titolo strada facendo, lasciandomi alle spalle atleti più giovani sulla carta di me, quindi contento. Diciamo che il primo e l'ultimo sono quelli che ricordo meglio, il primo perché chiaramente arrivava da una cosa importante, e il quarto perché non era così semplice. Poi ho ottenuto a Carpi, che ha anche un significato personale per voi maratoneti, il tuo personal best è 2.09.07, insomma un tempo di tutto rispetto, dove l'hai ottenuto? A Parigi nel 2002, dove mi lanciò come atleta a livello internazionale, era stata una sorpresa anche per me, perché sapevo di stare bene, ma sapevo di andare ad affrontare una gara a livello internazionale, dove c'erano atleti molto ma molto più quotati di me, quindi per me lì era importante veramente fare un crono per migliorare, non pensavo di migliorare così tanto, quindi arrivai addirittura a terzo e fu la gara che mi allanciò a livello internazionale, quindi sicuramente una delle gare più belle in carriera. Nel tuo lunghissimo palmarès, Megidio, vedo anche due risultati importantissimi a livello mondiale. Nelle maratone di New York e di Boston tu fossi il primo dei atleti italiani al traguardo. Sì, anche quella è stata una bellissima esperienza, è arrivata un po' tardi come carriera, verso fine carriera, però erano due tappe assolutamente da fare, perché un maratoneta, soprattutto dalla mia esperienza, doveva passare da queste due maratone, quindi sono partito per New York con delle buone aspettative e è arrivato anche un buon risultato, quindi primo italiano e primo europeo al traguardo, è stata una grossa soddisfazione, oltretutto in America c'è un circuito master importante, io avevo fatto da poco i 40 anni, quindi vinsi anche la categoria master, dove negli Stati Uniti conta come quella assoluta, quindi ci fu poi un richiamo enorme a livello anche mediatico, quindi è stato per me molto importante, per poi ripropormi a Boston e cercare di vincere anche lì lo stesso titolo, cosa che è venuta, quindi oltretutto a Boston corsi in due ore e tredici, l'anno in cui fecero il record del mondo, Geoffrey Mutai, anche se poi non venne convalidato per il problema del dislivello tra partenza e l'arrivo. Beh, quindi possiamo dirlo, mi giudio tu in America sei Mr. Burifa, molto meglio, conosciuto molto di più che in Italia. No, beh, più che in Italia, spero di no, però nei circuiti master sicuramente il mio nome è rimasto nella storia, perché sono riuscito nell'arco dell'anno a vincere sia New York che Boston, e quindi per loro è stata una delle principali performance per un amatore, quindi per un master. E veniamo ora al capitolo maglie azzurre, tante, tantissime, ma un grande rammarico della mancata partecipazione ad un'edizione olimpica, un po' la sfortuna, un po' di polemiche in senno alla federazione. Sì, ci sta. Nella carriera di un atleta, chiaramente la ciliegina sulla torta era quella, cioè vestire la maglia azzurra, in un'occasione importantissima come quella delle Olimpiadi. Nel 2004, dove il mio compagno e amico Stefano Baldini vinse le Olimpiadi, io ero tra i preselezionati, ma purtroppo un incidente in moto qualche mese prima mi annullò da questa competizione. In futuro poi ci sono state un po' di polemiche tra le convocazioni. Sta di fatto che le Olimpiadi sono ogni quattro anni, quindi si fa presto, se una la salti e l'altra ti escludono, sei già fuori dai giochi. È ancora un grande ramarico per te. Sì, ci penso, spesso, mi dispiace, però credo che le cose vengano anche per alcuni motivi, nel senso che io questa esclusione, per esempio, è stato motivo di scatto d'orgoglio nei miei confronti, di ripropormi poi negli anni successivi con maggiore entusiasmo e con maggior forza. Quindi questa esclusione l'ho utilizzata positivamente per mostrare non solo a me, ma anche agli altri che si sbagliavano e così ho fatto. Beh, poi in effetti, nei vari sui blog dei podisti, di voi maratoneti, sei veramente amato da tantissimi, dal pubblico, ti seguono, insomma, tutti hanno ti fatto per te, non solo perché vincevi un titolo italiano oltre i 40 anni, ma perché comunque sei un personaggio, sei un trascinatore. Migidio, quante maglie in azzurro, quanti presenze ai campionati europei e mondiali? Tra europeo e mondiali ho vestito 11 volte la maglia azzurra, quindi anche questo per me è un orgoglio. Ricordo benissimo la mia prima maglia ai campionati del mondo di mezza maratona, a Debrecen, era il 97, quindi un po' di anni fa, e contentissimo, ogni volta che vestivo la maglia azzurra per me era un motivo d'orgoglio e di dare sempre qualcosa in più, quindi la maglia azzurra, chiaramente per l'atleta, è sempre motivo di dare più di quello che di solito si riesce a dare per una gara personale, quindi sicuramente ne sono orgoglioso e fiero di averla vestita. Ed ora che fai? Ok, ti vediamo oggi con questa t-shirt logata, X Bionic, c'entra, è pertinente la cosa? Sì, sono rimasto per fortuna in ambito sportivo, perché chi fa atletica in particolar modo, o i sport minori, o si agganciano a società come i carabinieri, i centri sportivi militari, quindi una volta finita l'attività sportiva, si dedicano a fare il carabiniere o il poliziotto. Nel mio caso, che ho fatto un'attività privata, quindi in un club privato, sono riuscito a inserirmi in un'azienda che fa abbigliamento sportivo tecnico, prima come testimonial, adesso come sviluppo prodotto e nell'area marketing. È un lavoro che mi piace tantissimo, mi fa restare comunque nel mio ambiente, quindi dare modo di utilizzare la mia esperienza che ho vissuto in tanti anni, da trasformare per questa azienda o per chi necessita attraverso la mia esperienza. Quale modo migliore se non far usare il prodotto a chi lo usa per professione? Un ottimo modo per testare sicuramente l'abbigliamento sportivo. Migidio, corri ancora, quando sarà la tua prossima gara? Ma adesso non ho programmi, mi alleno, oltretutto adesso sono a Livigno, quindi colgo l'occasione sempre di allenarmi sui sentieri che mi hanno regalato tanto, tante soddisfazioni. Delle volte ripasso e ricordo le sensazioni che avevo rispetto a quelle di oggi, chiaramente sono cambiati i tempi, i ritmi, però è sempre piacevole correre sui sentieri che mi hanno dato tanto. Continuo a correre senza obiettivi particolari, ecco, volta per volta me li dedico visionando il futuro, i programmi delle gare, ma non ho in programma un vero e proprio obiettivo. Vivi, vivi, insomma, bella giornata. E avrai anche dei bei ricordi sulla Stralivigno? Assolutamente, sì, anche la Stralivigno ricordo già la prima edizione. Io purtroppo per problemi legati appunto ad appuntamenti federali solo una volta sono riuscito a partecipare in modo concreto. Le altre volte purtroppo o facevo la staffetta o testimonial, esatto, non sono mai riuscito è che era sempre vicino ad appuntamenti importanti legati alla federazione. Oggi è sempre in crescita, è una delle poche gare che in tanti anni è comunque rimasta a buoni livelli e porta sempre sui sentieri un sacco di persone e bravi gli organizzatori, bravi gli enti che continuano a promuovere questo tipo di attività che è promozione allo sport comunque in generale. Livigno è una cittadina sportiva e quindi complimenti e speriamo di portare avanti. Può essere che dall'anno prossimo inizia a partecipare anch'io in modo diverso chiaramente in modo fan come tanti altri. E alla ministra Livigno magari le tue bambine sei anche papà e marito di famiglia. Assolutamente sì. Adesso la bimba inizia a avere tre anni la Gaia invece è un po' più piccola un anno e mezzo però l'anno prossimo già potrebbe partecipare alla mini. Tu a che età hai incominciato a correre? Io in realtà ho iniziato tardi avevo 15-15 anni anche se l'atletica si inizia a 6-7 anni perché prima giocavo a calcio come tanti altri ragazzi ho fatto karate e ho iniziato così. Scusa se ti disturbo karate anche a buon livello sei arrivato? Sì sono arrivato fino alla cintura blu e poi ho smesso perché mio padre mi ha preso un po' per le orecchie dicendomi allora o giochi a calcio o corri a piedi o fai karate. C'è stato un periodo dove facevo tre attività ed era in effetti un po' troppo perché poi dovevo anche studiare tra l'altro quindi però questa attività della corsa vedevo che mi piaceva e poi avevo creato un bel gruppo di amici che ogni domenica partecipavano alle gare provinciali quindi a livello provinciale quindi ho scelto questa disciplina che poi ho coltivato nel tempo ma mai pensando di arrivare poi un giorno a certi livelli per quello che ancora oggi dico ai ragazzi di crederci di dare passione ma di dare una concretezza a quello che poi portano avanti col tempo quindi l'importante è dedicarsi e non mollare mai poi i risultati vengono da sé se uno ci crede e ci merita l'impegno quanto è importante la figura di una famiglia di un padre nel tuo caso per improntare un figlio verso lo sport anche quella è fondamentale perché la famiglia deve stare vicino all'atleta ma in modo anche spassionato a volte i genitori sono un po' troppo opprensivi verso i figli quindi mi stanno un po' troppo addosso invece io ho avuto per esempio l'esempio mio è stato che mio padre mi guardava ma sempre da lontano non è mai stato partecipe dei miei allenamenti o delle gare veniva a vedere ogni tanto dandomi sempre comunque il suo appoggio legando sempre l'attività alla scuola quindi dando sempre l'attenzione principale alle scuole però alternata ad attività sportiva nel momento in cui la scuola andava un po' male mi bloccava anche l'attività sportiva quindi cercavo di bilanciare tutte le cose e basta impegno anche lì se uno si dedica riesce comunque a fare tutte e due le cose questo lo dimostrano non solo io ma tanti campioni che fanno anche altre attività molto più impegnative a livello di tempo e riescono comunque a diplomarsi laurearsi e fare attività sportiva ad alti livelli tu che diploma hai ottenuto? io sono perito elettronico che poi purtroppo non ho più seguito però mi sono diplomato e anche quello sono contento perché anche quella è diligenza quindi vuol dire responsabilità l'ho portato a termine non ho continuato gli studi perché ho capito dopo che non era la mia strada ma la mia strada era anche a livello scolastico probabilmente era diversa era un ragazzo quindi a volte a quell'età lì ancora non sai bene sei costretto a scegliere la strada il tuo ramo però a volte non è come quella che avresti poi capito più avanti che dovevi scegliere però contento di averlo fatto e di aver fatto poi la mia scelta a livello sportivo con convinzione con un po' di rischio tra virgolette perché a un certo punto ho mollato il lavoro che avevo per dedicarmi un anno professionalmente a questa attività oggi non lo rifare non so se lo rifarei lasciare il lavoro però è stata una scelta azzeccata che poi mi ha ripagato ed è continuato e da quel giorno lì non sono più rientrato al lavoro beh probabilmente anche la responsabilità che ti sei sentito addosso ti ha spinto a fare più del dovuto oltre i tuoi limiti un papà lungimirante il tuo già dalla nascita ti ha un po' segnato il futuro per una specificità che ci racconti tu sì mio papà io ho origini marocchine quindi è stato uno degli artefici marocchini che arrivarono in Italia lui arrivò nel 68 in Italia per lavoro quindi si impegnò si dedicò tantissimo al lavoro i tempi non erano come quelli di oggi e quando dovevo nascere fece una scelta importante che è quella di farmi nascere in Marocco proprio per darmi la possibilità innanzitutto di avere il doppio passaporto e di scegliere poi del mio futuro quando sarei stato più grande chiaramente è stato molto lungimirante questo senz'altro cosa che oggi pensando ai miei figli in effetti pensare che dar la possibilità ai propri figli di poter scegliere del loro futuro viene in mente la Svizzera negli Stati Uniti dare la possibilità magari già dalla nascita ad ottenere un passaporto importante per poter continuare gli studi o il lavoro se in Italia non ci sono le possibilità diventa fondamentale certo è migidio che se tu fossi stato uno sciatore e avesse avuto il doppio passaporto marocchino di Olimpiadi ne avreste fatte 40 tantissime mentre nella corsa sappiamo tutto che sei cascato veramente male male esatto vedermi sugli sci è drastico anzi l'unica volta che ho messo le sci ero a Livigno diciamo che un centinaio di persone si sono messe a ridere sicuramente beh potresti impegnarti chissà mai che alla sole dei 50 ti vedremo in qualche edizione invernale dai grazie è tutto davvero grazie ancora Migidio per essere venuto per avercela raccontata a modo tuo grazie davvero un boccalupo per il futuro grazie a voi dell'invito alla prossima è tutto per questa sera grazie di nuovo e buon proseguimento di serata